40 anni dal terribile sisma del 23 novembre 80. A partire da questa sera alle ore 19.34, Regione Campania e Protezione Civile Regionale dedicano una serie di card social alla memoria delle vittime del terremoto che 40 anni fa, in 90 terribili secondi, devastò l'Irpinia e buona parte della Campania, colpendo anche le regioni limitrofe. Seguendo il claim la protezione civile sei anche tu, i post partono dalla rilelazione sismica della scossa in memoria delle vittime, dei feriti, dei senza tetto, per poi ricordare le figure emblematiche per il cambio di passo nel sistema dei soccorsi alla popolazione. L'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ed il Commissario Zamberletti, considerato il fondatore della moderna protezione civile. Per seguire la campagna dedicata al terremoto dell'Ottante è possibile collegarsi alla pagina Facebook della Regione Campania e della protezione civile della Regione Campania. Questa mattina il governatore Vincenzo De Luca ha diffuso un videomessaggio. Ricordiamo in Campania una data che ha segnato profondamente la vita della nostra Regione, delle nostre comunità. Ricordiamo quell'evento catastrofico, il terremoto di 40 anni fa, migliaia i morti, danni immensi, intere comunità sconvolte. Bene, come sempre in Italia, di fronte alle grandi tragedie è emerso il meglio e il peggio del nostro Paese. Sono emersi nel corso degli anni successivi comportamenti non lineari, non limpidi, elementi di speculazione, ritardi burocratici clamorosi. Ma è stata anche una vicenda che ha portato alla luce un grande Paese, la grande generosità di migliaia e migliaia di volontari, di cittadini normali, di giovani. Noi rivolgiamo ancora una volta il nostro pensiero a quelli che hanno perduto la vita, i loro familiari. Abbiamo fatto di tutto in queste settimane per portare a conclusione, sembra incredibile, dopo 40 anni, problemi amministrativi che erano rimasti sospesi. In questo momento dobbiamo solo rivolgere il pensiero a quelli che hanno perduto la vita allora.